ciao a tutti nel video di oggi leo impara e si impegna a fare un puzzle con mamma chiara poi si rilassa sul divano con papà fedez mentre li legge una storia vi lascio al video buona visione bravo poi ho visto amore bravissimo così amore non riesco a leggere così non riesco a leggere così sì e palla rossa quando compri gli anni palla rossa amore domani che è il momento in cui mi racconti i tuoi sogni vai raccontami guardando questa fantastica cover dei ricchi e poveri versione hardcore con i gabber che ballano e ho subito pensato a sanremo non so a quale serata bisogna portare una cover e no ovviamente no però sarebbe però no questa sfilata guarda che figona bella lei bella 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 Grazie a tutti. 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 I really feel like 100% today, and I think maybe because I slept way more than I usually do, so I think I need to change my sleep schedule and try to sleep as much as possible almost every day. It's insane what it does to you. It's insane. 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 Grazie a tutti.